Con l'ingresso in giunta del nuovo assessore allo sport e al decoro urbano Ciro Borriello si allarga la maggioranza a sostegno del sindaco De Magistris, che da oggi comprende anche il partito Sinistra Ecologia e Libertà. La presentazione questa mattina a Palazzo San Giacomo arriva dopo una lunga riflessione che punta ad un rafforzamento politico in vista delle prossime competizioni elettorali, ma non si tratta, ha osservato il sindaco, di una svolta partitica della giunta che continuerà ad avere nell'agente il principale interlocutore. Maggioranza originaria è quella che ci porterà fino alla fine, ma allargarsi politicamente è importante. Poi certo abbiamo la scadenza delle regionali dove non possiamo stare a guardare quello che accade, diremo la nostra, e poi l'obiettivo principale per me, per la nostra maggioranza, è rivincere le elezioni nella primavera del 2016, elezioni comunali. All'ex consigliere comunale Ciro Borriello, insieme alle deleghe sulla qualità della vita e toponomastica, vanno quelle al decoro urbano, con particolare riguardo alle periferie e agli impianti sportivi, temi delicati ai quali sarà rivolta una grande attenzione. Riuscire a riqualificare pezzette di territorio, riuscire a dare una dignità, a toglierle anche all'illegalità, rappresenta per me un grande obiettivo e rappresenta per me una svolta. Immaginiamo di recuperare una piazza, di mettere delle panchine, così come avviene in tutte le altre città d'Europa, questo è l'obiettivo. Io invito il Presidente Laurentiis a mettersi in bicicletta insieme a me la domenica mattina e magari con una bella pedalata riusciamo a risolvere qualche problema in più, perché lui magari fa una buona squadra di calcio, noi la nostra parte la facciamo sempre e credo che possiamo collaborare insieme. Esce invece dalla Giunta Monia Liberti, che continuerà a collaborare con l'amministrazione e le cui deleghe alle immagini e alla comunicazione tornano al Sindaco dei Magistris. Non è all'ordine del giorno un ulteriore ricambio in Giunta, perché è una squadra che sta lavorando bene, dobbiamo fare poi delle valutazioni nei prossimi mesi, ovviamente come siamo abituati a fare.